nooo uovo notta uovo notta devo andare alla spesa i chipachi anche di cartigenica il legito la cartigenica tutte queste cose non era proprio bel vedere però ebbene date proprio questa impressione voi altri che affollate i supermercati per fare più scorte possibili per favore i supermercati non chiudono siate intelligenti che sbolo